Wella ragazzi da oggi vi ricordo che potete supportare il vostro creator preferito attraverso la scheda negozi oggetti Cliccate su supporta un creatore e inserite il mio nome jkpr-ucalabres accetta Dopo che avrete cliccato accetta ragazzi controllate che ci sia scritto sul creatore supportato il mio nome Quindi ragazzi se le mie live e i miei video vi hanno strappato almeno un sorriso in tutto questo tempo Vi ricordo di inserire il mio nome in creatore supportato jkprucalabres e ringrazio chiunque lo farà Ma bando alle ciance vi ringrazio e vi lascio al video Ciao belli Uè ma sei da telefono? Eh si perchè l'avevo scritto in chat che mi si era rotta l'izbozza Ma ce la fai a giocare da cellulare? Si si Sicuro? Si Vabbè La vedo male No secondo me no Beh buona fortuna eh mi raccomando Eh grazie Ma sapete sono curioso di vedere Oh mio amore del tutto ragazzi Mi fa paura sto ragazzo Di nulla rider No ragazzi domani per giocare dovete fare la parola La faccio fare solo al rider perchè era il primo Cosa? Vabbè Vabbè Dai Voglio rifare Dai rifacciamo Dai rifacciamo Rifacciamo dai Se no Se no Fai la vibrazione no? Bella You light Bella Vincenzo dei lanciadoni Non trovo Compà ma la vibrazione la puoi pure togliere però eh Oddio Ce la fai? Grande Da Xbox forse te la cavavi Ma come fai a giocare da cellulare? Eh me la prendo a Natale Eh dai dai E fa ridere Andiamo 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 oh c'è wizard joe in lobby se me l'ammazzi da cellulare ti faccio vincere il torneo ragazzi se fanno kill io muoio bella crisi cuffini benvenuto christian mi fa parire da cellulare questo è morto wizard ormai non l'ho muto perchè mi piace sto rumore è morto è morto allora gg mi dispiace ma poi che cazzo metto la tremarella qua ogni cosa che fa minchia raga è dita più veloce di qualcuno di voi non prendi il minimo che ho scappato la dita scappato la mano ma che cazzo che fa ma che cazzo che fa nooo è l'impressione del gioco tipo se builda se costruisce se rompe le cose non è un messaggio medic ogni volta che build questo ragazzo fa una kill giuro che gli prendo io stesso la nova xbox è un boss è un boss che ragazzo non un un andiamo Oddio ragazzi Oddio ragazzi Minghe raga Raga gli dovete comprare le hitsbots Da torneo ragazzi Da torneo ragazzi Ma metto un posto in più solo per lui per la sezione cellulare Ha fatto più kill di qualcuno di voi da pc Ma c'è la mira assistita da Segna 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 pure da telefono Ragazzi da torneo ragazzi E' da torneo raga Orca puttana Mamma mia ragazzi C'è la line bot no A me non ho mai giocato da cellulare raga Me lo dovrei scaricare Devo fare una partita da cellulare Che cosa gioca da screen La safe non lo so Compa Oh stai facendo una bella partita Però non mi morire in live per favore Capito? Sì Dov'è il medikit Dov'è il medikit? Dov'è il medikit ragazzi Che cazzo deve fare festo raga Deve fare festo raga Contro uno di questa portata raga Quante risate ragazzi Quante risate Quante risate Stà durando più di smacchi C'è raga Questo qua Ecco dice forza Questo qua è uscito da pinnacoli col cellulare raga Mi sfida uscire da pinnacoli col cellulare raga C'è raga Raga ogni volta che Nutella Nutella La nuova applicazione per cellulare Il posto di telegram Telegraph Ha dominato pinnacoli raga Ha dominato pinnacoli raga Vediamo raga Vediamo Resisti compa Resisti ramos Resisti ramos No che ti cecchino da dietro Compa Ti cecchino da dietro Occhio da dietro Sopra Sopra Ok Va bene Va bene Basta che Occhio dietro che c'è una persona Da boschetto Eh non c'ho materiali Per questo motivo No raga non uso il controller Il controller Non uso il controller Già ho buona 2.9 2.9 Youtube Se fa sta cecchinata me ne vado raga Se fa sta cecchinata me ne vado di casa Non stremo più se fa sta cecchinata Se fa sta cecchinata non vado più in live Il controller Il controller Il controller Il controller Oliveroo per partecipare Devi scrivere la parola più velocemente degli altri Ed entra E' gg la morte di un eroe Gg la morte di un eroe Ragazzi Grazie Gg raga Gg la morte di un eroe 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 Gg la morte di un eroe